Sono Nicole Baiguera, mi sono laureata in lettere classiche e ora sto frequentando la magistrale in lettere moderne a Brescia. Mi trovo al Parco archeologico romano, dove abbiamo Capitolium, Teatro Romano e la Vittoria Lata che recentemente è stata restaurata, perché in questi cinque giorni di progetto, il progetto Eulalia, studenti e docenti europei stanno condividendo la loro esperienza con la lingua latina. Noi studenti ci stiamo confrontando in merito a quella che è stata la nostra modalità di apprendimento di questa lingua e se nella mattinata generalmente abbiamo degli incontri con docenti provenienti da diversa Europa che cercano di trasmetterci appunto i loro punti di vista sulla modalità di insegnamento della lingua, nel pomeriggio ci dedichiamo invece delle visite all'interno di diversi siti. Ieri abbiamo visitato il Museo di Santa Giulia, oggi appunto il Parco archeologico e domani visiteremo le Grotte di Catullo a Sirmione. Proprio per sottolineare il fatto che anche Brescia ha un patrimonio culturale e artistico legato alla Romanità, alla Latinitas, che è particolarmente profondo e particolarmente evidente. Tra l'altro in questo caso i siti archeologici hanno dei beni culturali che sono conservati in maniera assolutamente eccellente, quindi questa è anche un'occasione per poter condividere con gli studenti di altre nazioni il nostro patrimonio, appunto la nostra città.